Il campionato di Serie A arriva alla sua ottantesima edizione, un traguardo importante anche se il calcio italiano non se la passa bene. I posti per la Champions League si riducono a tre, con soli due accessi diretti. Calendario compresso, con molti turni infrasettimanali. A giugno ci sono gli europei, a metà tra Polonia e Ucraina, ai quali parteciperà la nazionale di Cesare Prandelli. Il Milan campione uscente e il principale favorito per il BIS. La squadra rossonera si affida ancora a Massimiliano Allegri, confermati i big. A completare la rosa arrivano Alberto Aquilani e Antonio Nocerini. L'Inter volta pagina. La rinascita parte da Giampiero Gasperini e dal suo 4-3-3. Va via Eto'o e arrivano Ricky Alvarez e il centravanti Diego Forlan, leader della nazionale uruguayana. La Juventus ci crede. Innesti di qualità in ogni reparto. Dick Steiner per la difesa, Arturo Vidal a centrocampo e Mirko Vucinic per l'attacco. Polce Andrea Pirlo, ingaggiato a costo zero dal Milan, una scommessa. La panchina è affidata al vecchio cuore bianconero Antonio Conte, che ha appena riportato in Serie A il Siena. Il Napoli di De Laurentiis e di mister Mazzarri debuta in Champions. Sotto il Vesuvio arrivano l'ex udinese Hiller e il centravanti Goran Pandev. La Roma si affida al tecnico spagnolo Luis Enrique, prende l'attaccante Pablo Osvaldo e scommette su tre giovani. La Mela, Bojan e Pjanic. La Lazio acquista il portiere Marchetti e porta in Italia Miroslav Klose, super bomber mondiale. Consueto antipasto stagionale con la Supercoppa italiana. Finale a Pechino, vince il Milan sull'Inter. E mentre tutto sembra pronto per la partenza della corsa a scudetto prevista per l'ultimo weekend di agosto, arriva lo sciopero dei calciatori. Sul tavolo questioni contrattuali. Infuriano le polemiche e le proteste. La Serie A si blocca e viene rimandata a settembre. Il campionato inizia con le partite in programma per la seconda giornata. La prima verrà recuperata a dicembre. La neopromossa Atalanta parte con una penalizzazione di sei punti. Scandalo del calcio scommesse in primo piano. Pesanti le decisioni prese oggi dalla commissione disciplinare della FIGC. Come era previsto, piccolo sconto per l'Atalanta che passa da sette a sei punti di penalizzazione nel prossimo campionato di Serie A. L'avvio è diluito in tre giorni. Apre la stagione il Milan e che venerdì 9 settembre fa 2-2 in casa con la Lazio. Il giorno dopo il Napoli si prende i tre punti a Cesena. Si gioca su un terreno sintetico. È la prima volta per la Serie A. Anche il campo del Novara che torna in A dopo oltre 50 anni è in erba artificiale. Domenica 11 settembre si completa il calendario. Ottimo avvio per l'Udinese che vince a Lecce e per la Fiorentina di Mihalovic che supera il Bologna. Fa rumore il tonfo dell'Inter sconfitto per 4-3 dal Palermo che Zamparini ha affidato all'ex allenatore della Primavera Davis Mangia, un debuttante assoluto. L'allenatore più felice d'Italia, le notizie sono due, l'artefice del successo sull'Inter è lei e conserva la panchina almeno per un po'. Sì, dicevo prima ai suoi colleghi, un'altra la faccio, un'altra la faccio sicuro. No, l'artefice non sono io perché io ho chiesto delle cose però questi ragazzi qua hanno fatto una grandissima partita. Entusiasmo in casa Juventus per il secco 4-1 rifilato al Parma. Si gioca lo Juventus Stadium inaugurato pochi giorni prima e di proprietà della società bianconera. L'importante è iniziare bene, è stato un ottimo giorno davanti ai tifosi, allo stadio nuovo quindi era fondamentale fare questa partita. Bella, anzi forse bellissima, lo chiedo subito a Claudio Ranieri. Certo che è un Pirlo straordinario, si sapeva. Beh, Pirlo ha fatto una gran partita, è stato lasciato solo per buona parte della gara e si è visto quello che è riuscito a fare. Sì, è stato troppo facile per la Juventus però la Juventus è una fior di squadra, Conte ha la possibilità di variare i suoi uomini per cui può fare benissimo il 4-2-4, 4-4-2 a secondo della terza. Dopo i primi quattro turni effettivi la Juventus si porta al comando della classifica. Non è sola, ma c'è. Vince a Siena, poi pareggia per due volte con Bologna e Catania. Per Antonio Conte, comunque, c'è ancora molto da lavorare. Con la Juventus c'è l'Udinese di Antonio Di Natale. I suoi gol valgono punti d'oro per la formazione di Guidolin che è la vigilia della sesta giornata e prima con 8 punti. Tenteremo di fare un buon campionato, è il nostro primo passaggio, è il nostro primo obiettivo. Come sempre, lo era anche l'anno scorso, è un passaggio, se possibile, sereno ai 40 punti e poi vedremo cosa succederà. Ad una lunghezza, dalla coppia bianconera di testa, c'è un plotone variegato. C'è il Napoli di Cavani che ne fa tre al Milan. La quarta tripletta in Serie A con i Napoli per il Matador. Il chievo del centravanti Naif Moscardelli. Il Genoa di Palassio, il Cagliari di Mister Ficcadenti e la Fiorentina del talentuoso Jovetich. Chiude il Palermo del mini bomber Miccoli. È il segnale di un campionato pazzo ed emozionante. Le grandi franano, le piccole vivono un esaltante momento di gloria. Martedì 20 settembre 2011, anticipo serale della quarta giornata. Il neopromosso Novara affonda l'Inter per 3-1. Il colpo è durissimo per i neroazzurdi. Paga per tutti i gasperini che lascia il posto a Claudio Ranieri. Da 20 minuti non è più il commentatore di questa stagione per Rai Sport. È il nuovo allenatore dell'Inter, Claudio Ranieri. Buonasera Claudio. Buonasera a voi tutti. Ciao Claudio, buonasera. Quale sarà il primo intervento che farai? Sulle gambe, sui muscoli o sulla testa di questa squadra o sul fatto tattico? Io credo che bisognerà parlare un po' con tutta la squadra, capire bene il perché e il per come. Di solito quando si cambia un allenatore c'è sempre un po' di tutto, ma l'aspetto mentale è la cosa più importante. La scossa è forte. I neroazzurri reagiscono vincendo a Bologna, ma l'aria è sempre pesante. Il Milan è campione, è in panne. La legnata con il Napoli lascia segni pesanti. Il Sharawi realizza il suo primo gol a Udine, ma è solo pari. La prima vittoria arriva alla quinta giornata. Per Allegri, la strada è in salita. Domenica sera il test della verità nel nuovo stadio della Juventus. Quando potrebbe rivedersi Ibre Imoic in campo, stella cometa del cammino rosso-nero. Lazio e Roma ancora non convincono. Nel Siena fa capolino Mattia destro. Buone notizie da Bergamo, dove l'Atalanta ha annullato all'handicap iniziale ed è a più 4. Termina così, 2-1, amarezza per il Novara, mezza gioia per l'Atalanta, che senza penalizzazione ora sarebbe a 10 punti, prima in classifica e sopra tutte. Pensa che Iella, non so quando mi ricapiterà di essere primo in Serie A e non poterlo festeggiare bene perché la classifica dice 4. La classifica, eccoci qua. Allora, in testa Juventus e Udinese con 8 punti, a 7 punti troviamo tantissime squadre. Genova, Napoli, Fiorentina, Palermo, Cagliari e Chievo. Se ne va a settembre. La corsa Scudetto si preannuncia incerta e ricca di colpi di scena alla vigilia della giornata numero 6. Il match di cartello è la sfida tra Juventus e Milan. Nelle altre gare da registrare il clamoroso tonfo casalingo dell'Inter sconfitto 3-0 dal Napoli, l'espload di Jovinco, nuova stella del Parma, la conferma dell'Udinese, il riscatto delle Romane e il pirotecnico 3-3 tra Novara e Catania da questa stagione, allenato da Montella. Allo stadium Conte propone una Juventus inedita con un 4-1-4-1. Juventus con Buffon, Listeiner, Barzagli, Bonucci, la novità Chiellini sulla sinistra. Pirlo, il grande ex, Krasic, Marchisio, Vidal, Pepe, Vucinic, unica punta. Il Milan risponde con Abbiati, Bonera, Nesta, Tiago Silva e Zambrotta, Nocerino, Van Bommel, Sedorf, Boateng non è al meglio, ma c'è Cassano e Ibrahimovic. La Juve merita la vittoria che arriva solo nel finale grazie ad una doppietta di Claudio Marchisio, uno degli uomini più in forma tra i bianconeri. Ed è 2-0 per la formazione di Conte che non sta più nella pelle. Juve Udinese prime a 11 punti dopo 5 gare. I ritmi del campionato non sono alti, anche chi adesso è distante dalla vita può sperare. E già nel turno successivo il Milan si scuote e travolge il Palermo per 3-0, mentre Juve Udinese pareggiano. Il Napoli perde in casa con il Parma, ma la notizia è la nuova sconfitta dell'Inter a Catania. A piano gentile questa mattina si presentava così. Nessuna contestazione, ma neppure nessuna forma di affetto o di incitamento per un Inter, che sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia. Delusione. Nell'anticipo serale il popolo laziale esulta per il derby strappato alla Roma, con un gol in pieno recupero di Close. 47 e 43 secondi. E il tocco di Close ancora una volta decisivo. Derby a due volti. La Roma nel primo tempo, ma la ripresa solo ed esclusivamente. A tutta Lazio, a voi studio. Grazie a Marco Civoli. Quindi la Lazio esce vincitrice da questo derby. Erano 5 derby vinti dalla Roma. Il primo derby per Reia. La corsa a Scudetto procede a velocità ridotta, quando si arriva alla vigilia dell'ottava giornata, in programma tra il 22 e il 23 ottobre. Juve Udinese comandano con 12 punti. Giocano entrambi in casa. Gli uomini di Conte ospitiano il Genoa. Di Natale e compagni ricevono il Novara. Il Milan va a Lecce. L'Inter se la vede in casa con il Chievo. Turno interessante, che potrebbe dare una prima svolta alla stagione. Tutto il calcio, minuto per minuto. GTV ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Ottava giornata del campionato di Serie A con gol a grappoli nei tre canonici anticipi. Ieri 2-2 fra Fiorentina e Catania e stesso punteggio per il pareggio fra Juventus e Genoa. Mentre nella partita ora pasti della domenica appena terminata, il Milan ha vinto a Lecce per 4-3 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di tre reti. Allegri può sorridere. La vetta è sempre più vicina. Mastica Amaro invece di Francesco, che ha solo accarezzato un successo di prestigio. Quattro partite interne, quattro sconfitte. La strada che porta verso la salvezza è sempre più in salita. Abbiamo dunque i finali di tutti i primi tempi e riprendiamo come sempre ricordando la situazione. Cagliari. Cagliari 0, Napoli 0, Udine. Udinese 2, Novara 0, Roma. Roma 1, Palermo 0, le squadre stanno tornando adesso in campo. Milano. Squadre in campo anche a Milano, Inter 1, Chievo 0, Parma. Sta per iniziare la ripresa, Parma 0, Atalanta 0, Siena. Anche a Siena la ripresa sta per cominciare, Siena 1, Cesena 0, studio. Comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Cagliari, Napoli, Riccardo Cucchi. Le squadre rientrano in campo adesso 0 a 0, ma tre legni. Due per i Cagliari con Nenè e Nengolan, che hanno colpito la traversa, e uno per il Napoli con Lavezzi, che ha colpito il palo. Un primo tempo divertente, anche se il Napoli appare stanco e il Cagliari poco intraprendente. Attenzione, Udinese 3, Novara 0. Direttamente sul calcio di punizione, bellissimo gol di Totò di Natale. Attenzione, il raddoppio del Siena con il gol di Calaio all'ottavo minuto. Siena 2, Cesena 0. Atalanta in vantaggio sul sviluppo di un contropiede. Il piccolo Morales ha sfruttato un passaggio raso terra dalla destra, è insaccato centralmente. Parma 0, Atalanta 1, Cucchi. D'accordo Raffa, intanto il tecnico della formazione partenopea, effetto il primo cambio della giornata. Raddoppio dell'Atalanta, ancora Morales, che ha sfruttato un'indecisione della difesa del Parma e da meno di due metri in diagonale ha messo il pallone a raso terra. Parma 0, Atalanta 2, a voi. Cagliari-Napoli. Nulla di fatto, ma dobbiamo dire che la partita si è di nuovo riaccesa. È la mezz'ora, il parziale non cambia. 0 a 0, linea di Udine. A Udine siamo ormai al 33esimo minuto della ripresa. Nulla da segnalare. Udinese che è dilagante, 3 a 0 sul Novara. Col di Valdesse al minuto 34, quindi si riapre la partita. Parma 1, Atalanta 2. Il finale del Franchi, il Siena ha battuto il Cesena per due reti a 0. Udine, Udinese 3, Novara 0, Roma. L'arbitro fischia la fine. Roma batte Palermo 1 a 0, vittoria soffertissima per i giallorossi. Linea Milano. E a Milano finisce la partita. L'Inter ha battuto il Chievo per 1 a 0. Cucchi. Finisce in parità la sfida tra Cagliari e Napoli. 0 a 0, linea Provenzali. Lazio e Bologna hanno una partita in meno. È il posticipo di questa sera che comincerà alle 20.45 a Bologna. Dirige la partita D'Amato ed è subito Lazio. Punizione violenta. C'è la deviazione di Robert Lazio in vantaggio. Sempre pericoloso il Bologna con Ramirez. Su calcio di punizione siamo alla 34esimo minuto. Ancora Ramirez sempre il sinistro ma sempre Marchetti tra i migliori questa sera della sua squadra. Andiamo alla ripresa. Due minuti e 49 secondi. Sisse l'imbucata per Lulic. La palla che passa sotto le gambe di Portanova. Terza vittoria in trasferta tra Lazio dopo Cesena e Firenze. Ceschiena è classifica ben diritta. Ora seconda alle spalle dell'Udinese. Questo è un altro esame che possiamo dire è passato ed è stato ben superato dalla formazione di Rea. A te Paola. Grazie Marco Civoli. Allora andiamo subito insieme a vedere la classifica. Che vede in testa da solo l'Udinese di Guidolin con 15 punti. Poi la Lazio come diceva Marco Civoli con questa vittoria si porta al secondo posto con 14 punti. Poi la Juventus con 13. Cagliari con 12. A 11 punti troviamo Napoli, Roma e Milan. L'Udinese sfugge alla Juventus e la Lazio conquista il secondo posto. Questo è il clamoroso esito dell'ottava giornata. Ma il sogno dei friulani dura pochi giorni. Nel successivo turno infrasettimanale gli uomini di Guidolin cedono di schianto al Napoli. Mentre la Juve batte la Fiorentina. Primo posto solitario per Buffon e Sochi che consolidano il primato il sabato successivo con la fondamentale vittoria a San Siro contro l'Inter. 2 a 1 per la Juve. Reti tutte nel primo tempo. Noi dobbiamo credere a qualcosa di importantissimo che è il lavoro. Questa è la cosa che noi dobbiamo credere. Anzi dobbiamo continuare a credere perché i ragazzi già lo fanno. Ci dobbiamo ancora continuare a credere di più perché è l'unico modo per cercare di riportare la Juventus dove merita. L'Udinese reagisce con il solito di Natale. Si mantiene in scia della capolista a braccetto con la Lazio che ha un rendimento migliore quando giochi in trasferta. Il Milan si scuote. Antonio Nocerino è il goleador che non ti aspetti. Il resto lo fa il solito Ibrahimović. Se continuiamo così lo vedo il futuro molto bene. Il Catania è la sorpresa della parte alta della classifica. Bergessio è bomber efficace e puntuale. Suo il gol decisivo nella vittoria a Casalinda con il Napoli ha ciuffato al quinto posto. Non solo la squadra di Montella tra le belle realtà di provincia di questo campionato. Riflettori puntati anche sulle Siena dove splende la coppia gol. Destro Calaio. E nel recupero altro schiaffo di Emanuele Calaio, quinta gioia in campionato, che non voleva certo mancare alla festa come nelle migliori giornate del Paglio. A fare i spenti procede l'Inter che dopo la sconfitta interna con la Juve precipita in piena zona retrocessione insieme a Novara, Lecce e Alcesena che dall'inizio del campionato non ha mai abbandonato l'ultimo posto. E mentre il popolo nero-azzurro si interroga sul futuro della squadra il campionato è scosso dalla notizia del malore che colpisce Antonio Cassano e che tiene con il fiato sospeso tutti gli appassionati. 29 ottobre 2011. L'aereo che riporta il Milan dalla vittoriosa trasferta di Roma è da poco atterrato alla Malpensa. Mancano pochi minuti alla mezzanotte. Sembra un normale rientro notturno dopo il posticipo serale giocato lontano da casa. Così non è. Antonio Cassano non sta bene. Giramenti di testa, la vista si annebbia, le parole escono a fatica. Affaticamento, stanchezza, stress. Contro i giallorossi Cassano ha giocato 20 minuti scarsi, gli ultimi. Tutto nella norma, il solito Cassano. Ma il dolore non passa. Il malore si aggrava nel giro di poche ore. Lo staff medico del Milan si allerta. Il giocatore viene accompagnato al pronto soccorso del Policlinico di Milano. Sono attimi di assoluta tensione e di paura. Iniziano a circolare voci incontrollate sulle condizioni del giocatore. Le ultime notizie che mi passa anche Paolo Arcaro, oltre al nostro inviato, mi parlano di una preoccupazione perché i sintomi potrebbero far pensare a un lieve ictus per Cassano. Però andiamo subito da Luca De Capitani. Per sapere in diretta le ultime notizie, Luca De Capitani è proprio davanti al Policlinico di Milano dove è ricoverato Antonio Cassano. A te Luca. Sì, per dirvi che è stato sottoposto a tutta la classica batteria di esami del sangue, dell'ecocardiogramma e appunto altri esami specifici e poi si è deciso di ricoverarlo in neurologia qui al Policlinico. Ora ci dicono che Cassano sta dormendo. Alcuni pazienti con i quali abbiamo potuto parlare ci hanno detto che l'hanno visto camminare anche se aiutato da alcuni assistenti. Di sicuro c'è davvero, davvero poco in questo momento sulle condizioni di Antonio Cassano. Dalla Milan fa trasparire un certo nervosismo ma soprattutto una certa preoccupazione. È ormai chiaro che non solo Cassano non partirà per Minsk domani insieme al resto della squadra ma per lui si profila uno stop precauzionale da qualsiasi attività sportiva. Questo può voler dire tutto o nulla come voi ben sapete. L'angoscia sale. C'è da capire il perché del malore. C'è da capire se ha fatto danni e in che misura. C'è da capire se un giorno potrà tornare a giocare oppure no. Per le ultimissime in loco c'è Francesco Rocchi. Francesco. Buongiorno dal Policlinico di Milano. Continuano gli accertamenti per Antonio Cassano. Ma io direi di farvi vedere subito le immagini registrate pochi istanti fa dell'arrivo della famiglia di Cassano, della madre e della moglie. Vedete, lo state vedendo, la signora Giovanna visibilmente scossa. Questo ha testimonianze evidentemente che la situazione pare essere seria perché al momento non si conoscono ancora i motivi del malessere di Cassano. Piccolo ictus ischemico transitorio. Questo è il risponso dopo i primi esami. La causa è un'anomalia cardiaca. Si tira un sospiro di sollievo. La paura vera passa. Il mondo del calcio si stringe attorno al campione barese. Il pomeriggio si è aperto con la visita di Lapo Elkana, poi la volta della moglie Carolina che si è fermata circa tre ore. È stato anche il pomeriggio dei compagni di squadra. E non solo, Pato, Antonini, Giampaolo Pazzini e Marco Materazzi. Sono arrivati anche i tifosi rossoneri con uno striscione che invita Pantantonio a non mollare più. Il problema è congenito. Si può intervenire chirurgicamente. L'intervento non appare complesso. Sarà il professor Mario Carminati, primario di cardiologia dei difetti congeniti del Policlinico Sandonato, ad operare con la sua equipa, il giocatore qui al Policlinico. Si tratta di una procedura di cardiologia interventistica in anestesia locale per chiudere il foro tra i due atri causa del malessere del giocatore. L'operazione, ricordiamo, non dovrebbe durare più di 15 minuti. Insomma, questo fa almeno sperare tutti i tifosi di Antonio Cassano di poterlo rivedere con la maglia azzurra almeno ai prossimi europei di giugno 2012. A questa speranza si associa anche il tecnico Massimiliano Allegri e il suo compagno di squadra, Alexandre Pato. Quando ho potuto andare sono andato subito anche insieme a Antonini. Siamo stati lì quasi un'ora a parlare con lui, a scherzare di solito. Io ho visto lui molto tranquillo e speriamo che domani corra tutto bene questo intervento e che lui possa tornare il più presto possibile. Il 4 novembre Cassano viene operato. Gli viene inserito un minuscolo ombrellino. Antonio Cassano è stato operato al cuore al Policlinico di Milano. Tutto bene, intervento riuscito. Sentiamo Donatella Scarnati. Guarisci Presto su Facebook è solo una delle infinite pagine dedicate ad Antonio Cassano che stamattina è entrato in sala operatoria affinché fosse eliminata quell'anomalia cardiaca che gli avrebbe provocato l'ictus ischemico. L'intervento, perfettamente riuscito, è finito alle 8.35. Antonio sta bene, si legge in un comunicato reso noto dal Milan e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad esami di controllo sulla base dei quali si stabilirà quando potrà tornare a casa. La guarigione è perfetta, torna alla vita Cassano e il 7 aprile 2012 torna anche a giocare. Per lui, gli ultimi sei minuti di Milan-Fiorentina applaudito da San Siro e da tutti gli stadi d'Italia. Mi vengono i brividi a ripensarci. Quella giornata è iniziata bene, abbiamo vinto. Io pensavo di giocare, ma il mister ha fatto altre scelte. Sull'aereo ho fatto un disastro. Volevo guidare l'aereo. Quando sono sceso dall'aereo, sull'autobus, mi sono reso conto di non vedere bene. Il dottore mi voleva portare in ospedale, ma io volevo andare a casa. Nel tragitto per andare in ospedale pensavo tante cose, ma non riuscivo a parlare. Ho pensato a mio figlio. Mi son detto che dovevo vivere per rivedere almeno per l'ultima volta mio figlio. Il campionato va avanti e la Juventus è da una prima accelerata. Dall'inizio del campionato non c'è mai stata una sconfitta. Antonio Conte si rivela essere l'uomo giusto al posto giusto e in occasione del recupero della partita con il Napoli decide di schierare per la prima volta la sua squadra con tre difensori, cinque centrocampisti e due attaccanti. Un sistema di gioco che suscita curiosità, da capire se avrà un futuro oppure no. Intanto dopo 15 turni effettivi la Juventus è prima da sola in classifica con 33 punti. Milano Udinese e Seconde sono a due lunghezze. I rossoneri hanno superato i primi tormenti iniziali e hanno ben assorbito lo sciocche per le vicende di Cassano. Ibraimovic segna ripetizioni e garantisce punti preziosi. Ibraimovic indovina l'angolo. Nocerino è il miglior partner di Mago Ibra. Segna molto la squadra di Allegri, ben protetta da un centrocampo muscolare e da una difesa dove Tiago Silva si conferma un fuoriclasse del ruolo. L'Udinese non molla, Totò di Natale impressiona per la facilità e puntualità con cui arriva il gol. Dusan Bassan, Floro Flores e Pinzi realizzano reti pesantissime. Podio per Maurizio Isla che sbanca la San Siro Neroazzurra il 3 dicembre 2011 con il gol partita al 73esimo. Isla ha mandato il pallone in rete, azione di contropiede da manuale da parte degli uomini di Guidolin, dobbiamo dirlo meritatamente. L'Inter, nonostante la sconfitta interna con i frulani, appare in ripresa almeno sul piano dei risultati. Vince spesso con il minimo scarto e con golle nei minuti finali, ma sono segnali incoraggianti. La laccia è stabile al quarto posto, una sola macchia la sconfitta interna con la Juve, per il resto buone prove e vittorie pesanti, close non delude e quando non segna lui ci pensano Sculli e il sempreverde Tommaso Rocchi. Il Catania di Montella ancora nei piani alti, nonostante qualche battuta a vuoto. La vittoria nel derby con il Palermo proietta gli etnei al sesto posto in compagnia di squadre molto più blasonate come Napoli, Roma e Genova. Con il Catania c'è la Roma di Luis Enrique, Bojan ha giocate davvero talento. Osvaldo è un bomber spettacolare, Piani ci realizza il suo primo gol in campionato con la maglia giallorossa. Simplisio mette il sigillo sul 3-1 esterno contro il Napoli. Spalletti stasera ha proprio una nostra trasmissione, intervistato da Carlo Pari, si ha detto due cose, che allenare a Roma è difficile ma meraviglioso e che Francesco Totti se andasse via sarebbe come se andasse via il Colosseo, il Tevere e la Curva Sud. Volevo prima di tutto sapere se è d'accordo su queste cose con Spalletti. Difficile deve essere perché tutti dicono lo stesso, che è difficile. E dopo quello di Francesco, Francesco è un riferimento e una cosa sempre importante per noi. I partenopei frenano. Dall'undicesima alla sedicesima giornata, gli azzurri di Mazzarri vincono solo una volta contro il Lecce. Per il resto, quattro pareggi e la pesante caduta al San Paolo contro la Roma. Difficile così tenere vini i sogni scudetto. Per il resto, il campionato propone vecchi e nuovi protagonisti. Denis trascina l'Atalanta, Vittori Barbo è la nuova stella del Cagliari. Il difensore Viola Gamberini si scopre golador di giornata. Marco Rossi è il capitano coraggioso di un Genoa in cerca di riscatto. Terò è l'uomo in più del Chievo. Nel Lecce emerge il colombiano quadrato. Mutu tiene vive le speranze del Cesena. Il campionato sta per giungere al Giro di Boa. Nel frattempo, diverse panchine sono saltate. Il Cesena ha esonerato Giampaolo e lo ha sostituito con Arrigoni. Il Cagliari ha salutato Ficca Denti e ha dato il benvenuto a Ballardini. Dallio Rossi ha preso il posto di Mihalovic alla Fiorentina. Cosmi ha fatto lo stesso con Di Francesco a Lecce. Non poteva mancare il Palermo. Zamparini, dopo il 2-0 subito con il Catania, sostituisce Mangia con Bortolomutti. Il 2011 sta per finire. L'ultimo atto del campionato si consuma tra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre con il recupero della prima giornata. Buonasera e bentrovati all'anteprima dello speciale 90esimo minuto per il recupero della prima giornata del campionato di Serie A. Una notte di fuochi d'artificio. Il Milan, dopo il Cagliari, 11 risultati utili consecutivi. E una Ibra che a questo punto, prima di Natale, alla sosta, non aveva mai segnato così tanto nel nostro paese. Undicesima meraviglia, griffata a modo suo, alla Zlatan Ibrahimovic. Turno favorevole al Milan che vince a Cagliari. Aggancia in vetta la Juventus bloccata sullo 0-0 dall'Udinese. Alla fine però si è giocato soprattutto a centrocampo e a gioco lungo. Le due squadre si sono annullate. Riscatto a suon di gol per il Napoli che ne fa 6 al Genoa. Camilo Zuniga al 35esimo minuto e sono 6. Bocciato Malesani, al suo posto Pasquale Marino. Quattro reti per l'Inter e per l'Atalanta con il piccolo Marilungo che realizza una doppietta. Colpo grosso della Roma che sbanca Bologna. Pareggi ricchi di reti innovarà Palermo. e Parma-Catania. Un pareggio che sicuramente soddisfa il Catania. Per il Parma ci sarà da lavorare soprattutto per la tenuta di tutti i 90 minuti. Il 7 gennaio 2012 riprende la corsa a Scudetto. La Juventus emette la freccia e sorpassa il Milan. Una vittoria e il pari con il Cagliari bastano agli uomini di Conte per staccare i rossoneri sconfitti nel derby. Ride la Milano Nerazzurra. È Diego Milito il match winner della stracittadina. a conferma del ritrovato buono stato di salute dopo il 5-0 al Parma. Che emozione è stata e cosa significa per l'Inter? Buonasera innanzitutto. Sì, sicuramente è un'emozione unica. Vinci un derby è sempre qualcosa di speciale. Anche a livello personale poter segnare un derby è sempre bellissimo. Però credo che la cosa più importante è la vittoria. Come l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto in settimana, che avevamo bisogno di lasciare tutto in campo, il cuore. Ha vinto l'Inter, l'Inter rilanciata alla grande per la vetta della classifica. Un derby molto discusso nei giorni a venire. Allora andiamo a sentire cosa avevano detto i nostri opinionisti la settimana scorsa. Eh sì, sì, sentiamo. Ma no, ma no. Eh ma sì. Ma no, ma fa bene, fa bene, vuole prendersi da rivincite, ma fa bene. Ma fai pure, fai pure. Allora sentiamo su questo derby, ma proprio flash, Fulvio. Sul derby? Sul derby, chi vince? Milano o Inter? Dai, 2 a 2. Ivan? Io vedo fuori il Milan. Marco? Eh, 1x2. Ah vabbè, Marco. Vuol fare 1 a 0. Eh allora, Gene. Milan 3 a 1. E il nostro ospite Dario Canovi? Io credo invece che questa volta l'Inter farà una sorpresa. L'Udinese rimane in scia, anche se il 3 a 2 subito dal Genoa, rimasto in 10 nell'ultimo quarto d'ora, fa male. Adrian Mutu taglia il traguardo delle 100 reti contro il Novara. Per il rosso-blu Niccolò Cheruvini invece arriva il primo gol in A in Bologna-Catania. Si rivede Francesco Totti su alla doppietta decisiva contro il Chievo. Scusate il ritardo, lo ha scritto, parafrasando Massimo Troisi, Francesco Totti su una delle sue proverbiali magliette, chissà da quanto, appostata sotto la sua maglia numero 10. Giovinco mette il suo sigillo sul 3 a 1 di Parma-Siena. È la partita del debutto sulla panchina emiliana di mister Donadoni che ha sostituito Colomba dopo la manita dell'Inter. Close non perde il feeling con il gol, così come di Michele. Suo è il rigore che decide la trasferta di Firenze. Manca una giornata al termine del girone d'andata. Tra il 21 e il 22 gennaio si chiude la prima parte della stagione. Due le partite di cartello, Atalanta-Juventus e Novara-Milan. In palio il titolo di campione d'inverno. Da seguire anche Udinese-Catania e Inter-Lazio. Tutto il calcio, minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Con le partite della diciannovesima giornata di campionato si conclude oggi il girone di andata della Serie A. Anche se sono stati gli anticipi di ieri ad offrire i titoli di prima pagina. Con la Juventus che vicendo a Bergamo per 2 a 0 sull'Atalanta ha conquistato il platonico, ma pur sempre ambito riconoscimento di campione dell'inverno. E Francesco Totti che contribuendo con una doppietta al successo della Roma sulle Cesena per 5 a 1 ha raggiunto quota 211 gol con la stessa maglia. E superando così di una rete il vecchio record di Nortal nel Mina. Nel terzo anticipo, quello dell'orapasto domenicale, pareggio per 0 a 0 fra Bologna e Barba. La Juventus campione d'inverno è un grande classico nel romanzo del calcio italiano. E al tempo stesso una novità assoluta nella Serie A del dopo calciopoli. La vecchia signora di oggi ha la forza del passato, intesa come tradizione, miscelata alla voglia di riscatto di chi da troppo non vince. La sintesi di queste 19 giornate di Juve è nel profilo di Antonio Conte. L'antico capitano ha portato nello spogliatoio, al campo d'allenamento e in panchina, una feroce voglia di tagliare il traguardo prima degli altri. Abbiamo dunque i finali di tutti i primi tempi ricordando la situazione Novara. Novara a 0, Milan a 0, Udine. Udinese 1, Catania a 0, Siena. Siena a 0, Napoli a 0, linea Cagliari. Cagliari e Fiorentina sono ancora sullo 0 a 0, Palermo. A Palermo il partito del primo tempo, Palermo 3, Genoa 1, Lecce. E qui a Lecce le squadre stanno rientrando in campo, il risultato del primo tempo è Lecce 1, Chievo 2, studio. Comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto e ritorniamo a Novara per Novara-Milan. Sempre 0 a 0 tra Novara e Milan, ma Escherai che è entrato nella ripresa a posto di Antonini ha svettato di testa pochi istanti fa, sfiorando il pallone e mandandolo di poco oltre la traversa. Attenzione, grandissimo gol di Di Natale. All'ottavo minuto del secondo tempo cambia il punteggio. Udinese 2, Catania a 0. E per il cannoniere dell'Udinese è la quattordicesima rete stagionale. Novara-Milan. E' sempre 0-0 qui al Silvio Piola. Ambrosini dal limite dell'area di rigore, mette per Ibraimovic. Aria, tiro rete! Stop con il petto e tiro con il destro, ravvicinato al limite dell'area di porta e il Milan si porta in vantaggio. Calcio di rigore assegnato al Genoa per un fallo di mano in aria di Balzaretti a dopo. Grandissima parata di Agazzi su un bellissimo tiro dalla sinistra da parte dell'ex di turno, vale a dire di Lazzari, adesso la Fiorentina che cerca di portarsi in avanti. Scusa, rincorsa di Palazzo, il tiro e il gol. La rete del Genoa. Siena in vantaggio, Calaio alla ventunesimo minuto. Siena 1, Napoli 0. Interviene Novara per segnalare il raddoppio del Milan esattamente al ventottesimo con Robinho, ma ci sono vehementi proteste da parte del Novara, perché Nocerino, che ha suggerito poi la palla per il compagno, aveva in realtà forse controllato il pallone in area di rigore con la mano. A Palermo siamo al ventottesimo e trenta secondi, Donati preferisce a sfidarla a Migliaccio, che tende un tentativo di passaggio per Miccoli. La palla ancora a Miccoli, 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 tiro, gol. La rete di Miccoli realizza il 4 a 2 Lecce. 29 minuti e 40 secondi, Lecce 1, chievo 2 studio. Vara. Bella reazione temporamentale. Interrompo da Palermo, scusa Cucchi. Il quinto gol del Palermo, colpo di testa vincente di Migliaccio. Palermo 5, Genoa 2. E il Napoli pareggia con Pandev di testa. 1 a 1 tra Siena e Napoli. L'uscita porta vuota da parte di Uicani, che scopre in realtà la sua porta e consente ad Ibrahimovic di infilare alle sue spalle. E il Milan, proprio in chiusura, porta a 3 le sue reti. Interrompo ancora da Palermo, c'è il terzo gol del Genoa, realizzato da Jankovic sotto rete. Dunque Palermo 5, Genoa 3. Il pareggio del Lecce con Di Michele, che è andato a deviare in porta un cross, che è arrivato dalla destra di Muriel. Nulla da fare per Sorrentino. Lecce 2, chievo 2. Sì, c'è un calcio di rigore in favore del Catania. Siamo ormai al 48esimo minuto e mezzo. Tutto è pronto, fischia Ostinelli. Parte la conclusione di Lodi, che spiazza nettamente il portiere Andanovic. Interviene Siena per dare la finale. Siena e Napoli, 1 a 1. Novara. Si conclude proprio in questo istante il confronto di Novara e si conclude con la vittoria del Milan per 3 a 0. E si è concluso anche al Renzo Barbera, Palermo 5, Genoa 3. Interlazio, il posticipo di questa sera delle ore 20.45. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione. Ventinovesimo minuto. Le Desma, osservate il movimento di Rocchi e il diagonale è perfetto da attaccante di grande razza. Zanetti, il tocco in direzione di Milito, quindi lo scambio con Alvarez e prende il tempo a tutti. L'argentino ed è il pareggio dell'Inter. 43esimo minuto, ancora lui, ancora Milito, il quarto gol consecutivo in campionato. Poi Mattusalem per Hernanes, cambia Reia. Obi e Sneijder per Kivu e Alvarez. Cambia l'Inter, inevitabile, dopo il primo tempo. 18esimo minuto, rilancio di Lucio. A vuoto Milito, Pazzini, posizione, come vedremo, molto dubbia la sua, ma il panonetto riesce ed è il gol del 2-1 per l'Inter e la settima vittoria consecutiva in campionato. Possiamo dire comunque Bella Lazio, scavalcata in classifica dei Neroazzurri, anche se nelle ultime cinque giornate il bottino, cinque punti, non è affatto esaltante. Juventus è campione d'inverno con 41 punti e nessuna sconfitta, unica formazione imbattuta in tutto il campionato. Antonio Conte ha dato una precisa identità alla sua squadra, sia a livello mentale che tattico. Il 3-5-2 è ormai lo schema base. Pirlo è il sontuoso regista, Marchiso è Vidal, i guastatori capaci di incidere in maniera decisiva sotto rete. Riprende la corsa Scudetto, la finestra di mercato di gennaio porta a qualche interessante rimescolamento delle carte. Gilardino, chiuso alla Fiorentina, va al Genoa. Borriello trova spazio alla Juventus. Montari si trasferisce dall'Inter al Milan. Candreva va alla Lazio. L'ex campione del mondo, Ia Quinta, cerca un rilancio nel Cesena. Nell'ultimo fine settimana di gennaio prende le vie il girone di ritorno. Il maltempo è il vero protagonista del campionato. A Torino è previsto addirittura un meno 16. Giocare sempre e comunque, quindi, non è possibile. Se ne è accorto anche Adriano Galliani, che pensa già a domenica prossima. Il dirigente rossonero ha chiesto di rinviare la sfida con Napoli, prevista in posticito. Ne risente la classifica, che vede ai piani alti il sorpasso del Milan sulla Juventus. I rossoneri hanno una sola battuta d'arresto contro la Lazio alla ventunesima giornata. Per il resto, gli uomini di Allegri spingono decisi anche con i nuovi innesti. Maxi Lopez e Montari vanno subito a segno. Alla vigilia dello scontro diretto con la Juventus, in programma il 25 febbraio, il Milan ha un punto di vantaggio sui bianconeri. Il Milan ha quindi risorpasso la Juventus. Sabato, 90 minuti ad alta tensione. Giovedì si saprà se Ibrahimovic sarà in campo o in tribuna. La Juventus è penalizzata da molti rinvii delle sue gare. Di suo ci mette il deludente 0-0 casalingo con il Siena e quello esterno a Parma nel recupero della ventunesima giornata. Il 3-1 al Catania in rimonta con il primo gol di Pirlo riaccende l'entusiasmo in casa bianconera per un'annata comunque superiore alle aspettative. Lazio-Udinese continuano ad occupare la terza posizione. La squadra di Edierei abbatte il Chievo e il Milan, spanda con il Genoa, supera il Cesena prima di essere travolta dal Palermo per 5-1. Un incidente di percorso, sperano in Casalazzo. L'Udinese è in fase calante, mette insieme qualche sconfitta di troppo e uno scialbo pareggio casalingo con il Cagliari. La Roma è la quinta forza del campionato. Fiore all'occhiello della formazione di Luis Enrique, il 4-0 all'Inter con doppietta del giovane Borini. La prima con la maglia della Roma che al minuto 3 del secondo tempo chiude eventualmente la partita. Igor Budan, a riete del Palermo, arriva a quota 40 reti con la doppietta all'Enovara la ventesima giornata, mentre Pellissier, bandiera del Chievo, taglia il traguardo di 100 gol il 2 febbraio 2012. Nel Napoli è sempre più decisivo il contributo sotto rete di Cavani. Jovetic è l'uomo in più della Fiorentina. È bastata la prudezza di Jovetic dopo neanche 4 minuti di gioco a riportare un clima di festa all'interno del Franchi. Marco Di Vaio è l'intramontabile golador del Bologna, mentre l'ultimo arrivato Piniglia si presenta ai suoi tifosi del Cagliari, segnando subito. Sullo sfondo della classifica è il Novara la ventesima giornata esonera Tesser e si appida l'esperienza di Mondonico. Il Cesena torna ad occupare l'ultima posizione e gioca ancora una volta la carta del cambio tecnico. Via Rigoni, dentro Beretta. E si arriva così all'attanto atteso scontro diretto tra prima e seconda, anticipo serale della venticinquesima giornata. Nel pomeriggio un immenso palazio ha recuperato il doppio vantaggio del Parma, regalando al suo geno un punto insperato. L'Argentino non si ferma più, 14 reti in questa stagione. È il faro del grifone. Indisponibile Ibraimovic, Allegri si affida alla coppia Pato Robigno. Conte conferma il 3-5-2 con Estigarribia, esterno sinistro di centrocampo. È il Milan a portarsi in avanti con Nocerino al 14esimo. Il gol di Nocerino, la certificazione della superiorità rossonera. Dieci minuti più tardi, un colpo di testa di Montari viene respinto da Buffon quando il pallone ha nettamente superato la linea di porta. È gol. Lo vedono tutti, tranne arbitro e assistente. La rete non viene assegnata, il clima si fa incandescente. Nel secondo tempo Conte butta dentro Matri, che pochi minuti dopo acciuffa il pareggio con una girata al volo di destra. Finisce 1-1. C'eravamo tanto amati, potrebbe essere questo il titolo del film dedicato a Milan-Juventus. Rapporti, legami, amicizie e strategie, tutto spazzato via in 90 minuti. Da amici a rivali, questione di feeling, questione di un gol visto da tutti, per meglio dire, quasi da tutti. La società bianconera fa presente invece che all'assistente Romagnoli, oltre al gol di Montari, è sfuggita pure la posizione regolare di Matri, prima del vero pareggio. Insomma, anche la gara degli errori arbitrali è terminata in parità, uno a uno, nessun complotto, nessuno scandalo. Non la pensa così Galliani, furibondo durante l'intervallo, protagonista con Conte di un feroce scontro verbale negli spogliatoi, insulti ed accuse al vetriolo, chissà con quali conseguenze. Non la pensa così Berlusconi, che questa volta ha preferito non complimentarsi con la signora di Torino. No, questa sera mi sono astenuto. Il Milan mantiene il comando, anche se la Juve deve ancora recuperare una partita, ma le polemiche si fanno velenose. 18 febbraio, Allegri dopo Juventus-Catania. Mi sarei divertito se avessero annullato il gol a Chiellini. 20 febbraio, Marotta risponde al Milan. Non guardiamo in casa d'altri. 21 febbraio, Agnelli attacca a Bete. Su Conte, parole inopportune. 23 febbraio, respinto il ricorso per la squalifica di Ibrahimovic. 25 febbraio, Milan-Juventus annullato il gol a Montari. Galliani, lamentarsi, paga. Milan-Juventus annullato il gol a Matri. Conte, qui è la mafia. Poteva capitare a qualsiasi altra squadra premessa. Cinque giocatori della Juventus che alzano il braccio per dire la palla non è entrata. Allora, il giorno in cui uno di questi va dall'arbitro e dice arbitro, la palla è entrata, il calcio secondo me vincerebbe. Non succederà mai. Non succederà mai. Ma su questo discorso sono abbastanza chiare. Vai nello spogliatoio, ti prendono i tuoi compagni, ti mettono sotto la doccia, ti fanno accogliere il sapone. Su questo è abbastanza chiaro anche quello che ha detto a fine partita Buffonieri, che ha detto io non l'ho vista dentro ma anche se l'avessi vista non l'avrei detto. E sono dichiarazioni che hanno fatto oltretutto ridiscutere. La giornata si completa con la rinascita dell'Udinese che torna da Bologna con i tre punti. Di Natale sblocca il risultato e inaugura la domenica dei grandi bomber. Close è il match winner di Lazio-Fiorentina. Bergessio timbra ancora per il successo del Catania sul Novara. Bogdani fa sorridere il Siena. Lavezzi regala i tre punti al Napoli contro l'Inter. Meglio di tutti fa Denis e che realizza una tripletta nel 4-1 della sua Atalanta contro la Roma di un Luis Enrique, sempre più nell'occhio del ciclone. Assente Totti per squalifica, la Roma scende in campo a Bergamo clamorosamente anche senza Daniele De Rossi, neppure in panchina. Io so che dovrebbe essere arrivato in ritardo alla riunione tecnica e quindi è stato preso un provvedimento disciplinare, però mi dica se non è così, lo dica lei, mister. No, io non l'ho visto pronto. Pronto alla riunione tecnica o non pronto in generale? Non l'ho visto pronto per la partita. Nemmeno per la panchina? No. Siamo a marzo, mese da sempre decisivo per le sorti del campionato. La giornata è la numero 26. Sulla carta il turno pare favorevole ai bianconeri che ricevono il Chievo allo Juventus Stadium. Il Milan vola a Palermo, trasferta insidiosa. Ad arricchire il calendario c'è il derby romano con i giallorossi in cerca di riscatto e la Lazio in piena corsa Champions. Tutto il calcio, minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Nella 26esima giornata del campionato di Serie A, settima del girone di ritorno, sono decisivi gli anticipi del sabato per la parte alta della classifica. Il Milan ha vinto a Palermo per 4-0 ed ha consolidato la sua posizione di leader portando a tre i punti di vantaggio sulla Juve, fermata in casa sul pareggio 1-1 dal Chievo. I bianconeri comunque devono ancora recuperare una partita e lo faranno mercoledì prossimo in trasferta contro il Bologna. Nel terzo anticipo, quello ora pasti della domenica, il Napoli ha appena vinto a Parma con il punteggio di 2-1. Stiamo facendo il massimo, quindi io sono molto sereno da questo punto di vista e vado a casa e dormo, non dormo tanto perché quando vinco non dormo tanto, però sono sereno perché, ripeto, la macchina e il calciatore si stanno spingendo a manetta. Se poi a qualcuno storce il naso o si è montata la testa, è meglio che se la smonti. Abbiamo dunque i finali di tutti i primi tempi per quanto riguarda le partite della Serie A. Roma 1-1, Lazio 1, Udine. Linese 0, Atalanta 0, Firenze. Bettina 0, Cesena 0, Siena. Siena 1, Cagliari 0, Lecce. Lecce 0, Genoa 1, studio. Comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, Riccardo Cucchi. Dunque parità 1-1 dopo un primo tempo molto intenso, diciamo, sul piano emotivo. Le squadre sono però poco lucide e il gioco poco brillante. Al settimo Stechelenburg esce su Close che va giù, rigore e rosso per il portiere romanista. Entra Lobolt, esce la mela ed Hernanes realizza per la Lazio l'1-0 al decimo minuto del gioco. Al sedicesimo il pari con la Roma che avanza e Joan che crossa e colpisce la traversa. Entra Borini e calci. Abbiamo allontana di testa ma oltre la linea De Bravo Copelli ad individuare subito ed assegnare la rete in favore della formazione romanista. A Udine sedicesimo e quindici secondi, Udinese 0, Atalanta 0. A Reggio del Lecce con Muriel lanciato da Bertolacci in corsa di sinistro, ha battuto Frey. Lecce 1-1 a Telealunia. E c'è anche il fantaggio della Fiorentina sul Cesena con il gol di Amauri. Il primo in maglia viola al sedicesimo minuto. Fiorentina 1-0, Cesena 0. E mentre intervenivano i colleghi c'è stata un'entrata in scivolata sotto misura da parte di Mauri che ha colpito in diagonale spiazzando il portiere della Roma Lobot. Roma 1-2, Lazio 2. Attenzione il raddoppio della Fiorentina con Nastasic esattamente alla ventinovesimo minuto. Fiorentina 2, Cesena 0. Grandissimo gol di Emanuele Calaglio. 2-0 per il Lecce Siena, trentaseiesimo della ripresa. Siena 2, Caglia 0. Lina Lecce. Lecce che si prepara a battere una punizione dalla tre quarti. E Brivio la battuta sotto l'incrocio dei pali strepitoso. Il raddoppio del Lecce. Un grandissimo gol. 3-0 Siena del grosso. Trentotto minuti nel corso della ripresa. Roma-Lazio. L'apertura di Borini. Marchigno, il suo cross in area di rigore. Colpo di testa e palla che finisce di pochissimo a lato. Roma vicina alla pareggio in questa occasione. Il pareggio del Genoa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un gran colpo di testa in mischia. Se non andiamo errati di Sculli. Quarantesimo. Lecce 2, Genoa 2. Finale da Udine. Udinese 0. Atalanta 0. A terra linea. E c'è il finale anche da Siena. Siena batte Cagliari 3-0. C'è il finale del Franchi. La Fiorentina ha battuto il Cesena per due reti a 0. Roma. D'accordo Raffa. In questo momento Bergonzi dichiara concluso il derby. Derby che la Lazio si aggiudica battendo la Roma con il punteggio di 2-1. Fra poco alle 18.30 comincerà il primo dei due posticipi di questa giornata. Bologna-Novara. E poi alle 20.45 per concludere la giornata. L'ultimo posticipo quello fra Inter e Catania. Samuel tiene in gioco Gomez su Nagatomo disorientato. 38esimo al Niron. Dentro per Barrientos c'è un tocco di Nagatomo e arriva la palla sui piedi di Itzko. Ed è il 2-0. È il momento dell'Inter. Forlan 25esimo minuto. Cerca di ubriacare la difesa del Catania con questo dribbling. Ha un po' di fortuna perché è quasi un autogol di Carrisso. Forlan Milito in area. Il destro in diagonale dell'Argentino. Ed è il gol del 2-2 al 34esimo minuto. Ci vuole una percussione improvvisa di Perez per aprire una breccia. Due pali poi alla fine la ribattuta decisiva di Robert Acquafresca. Io credo che per un allenatore non ci possa essere la situazione migliore del gol che abbiamo segnato. È stata una palla rubata alta da un nostro centrocampista che ha fatto un'azione individuale e due attaccanti che hanno fatto di tutto per buttare la palla dentro che non voleva entrare. Quindi questo testimonia la volontà, lo spirito, la consapevolezza dell'importanza di una gara e testimonia che i miei giocatori l'hanno interpretato in un mondo migliore. Il Milan spinge ancora più forte sui pedali con il tandem a Nocerino-Ibra, liquida e lecce. La Juventus accuse il colpo e non sa più vincere. Dopo l'1-1 con il Chievo, seguono i pareggi con il Bologna nel recupero della ventitresima giornata e con il Genoa. Il distacco adesso è di 4 punti. Conte è in emergenza, soprattutto in difesa, dove viene schierato Arturo Vidal. Il momento non è dei migliori, ma questa Juventus pare possedere doti morali fuori dal comune. Buffon è l'uomo guida. Del Piero si conferma professionista esemplare. Poi c'è Andrea Pirlo, la vera rivelazione della stagione bianconera. Contro il Genoa, l'11 marzo 2012, raggiunge le 400 presenze in A. Un fuori classe assoluto. Andrea Pirlo, il Mozart del calcio. Un direttore d'orchestra raffinato e virtuoso. Il vero colpo estivo della Juventus. Il capolavoro del duo Marotta-Paratici. Parametro zero. Classe 1979. Il più giovane debuttante in assoluto con la maglia delle rondinelle. Gioca a centrocampo. È un talento puro. Non ha ancora l'età per la patente. Inevitabile il rimando a Gianni Rivera, ma stavolta il paragone ci sta tutto. Destro che dipinge. Testa che pensa. Lucida visione di gioco e assoluta percezione dell'esattezza dei tempi di giocata. Lo prende l'Inter, ancora ragazzo, forse un po' acerbo. I nerazzurri non hanno tempo. La svolta per Andrea, nel frattempo numero 10 delle varie rappresentative azzurre, è il ritorno a Brescia nel 2001. Carlo Mazzone e Roberto Baggio. I due assi su cui poggia l'esplosione del giovane campione bresciano. Mazzone gli cuce addosso la posizione in campo. Nasce lì il Pirlo Regista. La vicinanza con Baggio è una fortuna. Lo scruta, lo osserva, gli carpisce i segreti. Ci avresti scommesso su questa coppia Pirlo-Baggio? Ma sì, anche perché non vedo problemi. Due giocatori che sanno giocare a calcio, quindi basta adattarsi un po' alle situazioni e si può giocare insieme. La stagione tra le mura di casa è quella decisiva per il salto di qualità che si materializza con il passaggio al Milan nel 2002. In rosso-nero vince tutto. Stavolta trequartista per esigenze d'organico. Con Ancelotti il ritorno alla posizione di regista. Nel frattempo debutta con la nazionale maggiore, naturale sbocco di una carriera da sempre colorata d'azzurro. È il numero 21 nella notte di Berlino, primo rigorista della lotteria finale. Parte Andrea Pirlo. Ed è golla. Bravissimo. Andrea ha fatto il suo dovere. Continua a giocare e a vincere in rosso-nero fino a quando qualcosa si rompe durante la stagione 2010-2011. Finisce l'amore. Tanti e nessuno i motivi. Una bellissima avventura durata dieci anni. Andrea Pirlo ha salutato il Milan, una decisione concertata, ma figlia delle idee tattiche di Massimiliano Allegri, che non trova spazio nel Milan del futuro per un regista davanti alla difesa. Un ruolo questo inventato in accordo con Ancelotti nel 2002, quando era al Milan già da una stagione, un po' soffocato. La Juventus è alla finestra e ha l'idea meravigliosa di offrirgli un ingaggio. Un contratto vero, pluriennale. Le visite mediche, la firma e finalmente la presentazione per Andrea Pirlo è finalmente, ufficialmente, cominciata l'avventura in bianco-nero. Ho scelto la Juve perché la Juve è la squadra insieme all'Inter e al Milan più importante in Italia e anche in Europa e nel mondo. È una squadra che vuole tornare a vincere. È parecchi anni che non vince. Quindi per me questa scelta di venire qua è stata dettata anche da questo. Sorridono tutti. Forse presagi di un futuro prossimo ricco di soddisfazione. È andata ancora meglio del previsto. Il presente è già ricchissimo di gioie e di vittorie e non sarà che la prima delle stagioni vincenti della Juventus. Andrea ha dimostrato tutto il suo grande talento e il suo valore. Quando giocavamo insieme, tutto dipendeva da lui. Ha sempre avuto il grande merito di vedere in anticipo quello che poteva succedere all'interno dell'azione. La sua visione di gioco, quello che sa fare, quello che sa costruire, fanno di lui un fuoriclasse. Andrea ha qualcosa che non si vede spesso in giro. La 27esima giornata non è solo Juve e Milano. La parte del Leone la fa il Napoli, che supera il Cagliari per 6 a 3, aggancia l'Udinese e si porta al ridosso della Lazio sconfitte in casa dal Bologna. La lotta per il terzo posto Champions si fa ancora più interessante. C'è anche il risveglio della Roma, che vince a Palermo e per il Rosanero è la seconda sconfitta consecutiva in casa. Il Novara, che ritrova Tesser sulla panchina, batte l'Udinese, mentre il Siena la meglio nello scontro diretto con il Cesena. Male la Fiorentina, battuta a Catania. Benino l'Inter, che nel finale supera il Chievo, ma che fatica. Il Milan pare aver preso saldamente il comando. È venuta fuori alla distanza la squadra di Allegri. Ibraimovic è l'uomo decisivo, Nocerino vede la porta come non mai. Il centrocampo è una diga di qualità. La difesa può contare sulla classe di Tiago Silva e sulla spinta di Abate Antonini. I rossoneri tengono un buon passo. Due vittorie con Parma e Roma in rimonta, prima del pari a Catania contro una delle migliori formazioni del campionato. Il piccolo Barcellona di Montella, tutto pressing e velocità e passaggi corti. Quattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto gare. La Juventus è in agguato. Antonio Conte sa toccare le corde giuste. È stato per anni il capitano juventino. Il popolo bianconero sente che la molla sta per scattare. Il primo sussulto a Firenze il 17 marzo. Partita tradizionalmente difficile. Ma la Juve spazza via tutto con un clamoroso 5-0. Viola in crisi è un passo dalla zona retrocessione. Bianconeri che decollano. Lo Juventus Stadium esplode la sera del 25 marzo. È il primo derby d'Italia nel nuovo impianto torinese. La Juve riceve l'Inter. Partita bloccata. Al 52esimo Conte chiede a Del Piero di dare la svolta alla gara. Cambia modulo il tecnico della Juventus. Teme questi interessi e attrezza per colpirla. Dopo 5 minuti Casares batte Julio Cesar. Lo stadio è una bolgia. Nulla a che vedere con quel che succede al minuto 71. C'è lo scatto di Del Piero nelle linee nero azzurre. Supera tutti in velocità. Ed è il gol del 2-0. La grande gioia di Alessandro Del Piero. Il suo primo gol in questo campionato. Il gol numero 186. In Serie A il nono segnato all'Inter. La Juve adesso ci crede ancora di più. Ma non lo dice. Nemmeno quando travolge il Napoli di Mazzarri con un perentorio 3-0 e si porta a due punti dal Milan capolista. Io ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo che tra vecchi e nuovi avevano voglia comunque di scrivere qualcosa di importante. Per adesso non abbiamo scritto niente però perché si scrive solamente quando si vince. La partita di oggi, la vittoria di oggi contro un grande Napoli ci ha fatto mettere una serie ipoteca sul secondo posto. Il duello di testa è avvincente. Il campionato è apertissimo. Anche la corsa per la Champions tiene accesa la tensione con Lazio, Udinese e Napoli in lotta per un posto. La Lazio mantiene il terzo posto ma sbanda paurosamente. Due sconfitte e una sola vittoria per la squadra di Reia. Punti pesanti persi per strada potrebbero essere quelli decisivi. Eravamo carichi prima della partita avevamo detto che bisognava fare non bene ma bisognava fare benissimo soprattutto in fase iniziale di essere aggressivi poi abbiamo commesso questi erosi queste sono cose che non bisogna assolutamente commettere. Anche l'Udinese viaggia a ritmi ridotti si fa rimontare il doppio vantaggio dal Napoli pareggia nel finale a Palermo e perde a Siena dove Mattia Destro si conferma una delle migliori rivelazioni della stagione. Per l'attaccante dell'Under 21 settimo gol stagionale e un'altra domenica da protagonista. Siamo riusciti subito a trovare questo gol ed è importante i tre punti per il palo sono stato un po' sfortunato perché sinceramente l'avevo vista dentro poi è andato a sbattere sul palo e il gol è stato bravo sia Ciccio che Alessandro a mettermi il pallone quindi va benissimo così. La Roma spinta da Osvaldo ha un guizzo interessante e si riporta a ridosso di Udinese e Napoli. Il Catania regge il Cagliari ha azzeccato l'acquisto di gennaio con Maurizio Piniglia il Palermo tiene la sua prima vittoria esterna contro il Bologna mentre il Chievo affossa ancora di più una Fiorentina in piena zona retrocessione. Sicuramente mi aspettavo meno difficoltà sicuramente non mi aspettavo di trovarmi in questa situazione in classifica. La maggioranza dei tifosi viola alla fine ha preferito abbandonare gli spalti senza neanche contestare un segnale considerato pericoloso dallo stesso Rossi da queste parti domina ormai la rassegnazione. Poi c'è l'Inter il 2-0 dello Juventus Stadium ha effetti devastanti in casa nera azzurra. Massimo Moratti decide per la seconda svolta stagionale via Claudio Ranieri e dentro il giovane Andrea Stramaccioni allenatore della primavera con cui ha conquistato la Next Generation Cup è una mossa che lascia qualche dubbio il nuovo allenatore, 36 anni è al debutto assoluto. Moratti ha ragionato da uomo di spettacolo cioè voleva dare un senso alle ultime nove partite Ranieri non riusciva più a uscire da questo tunnel e ha tentato la carta del giovane. La prima uscita sembra dare ragione a Moratti l'Inter batte il Genoa per 5-4 dopo un'alta lina di emozioni tutto da seguire il finale di stagione di Enerazzurri i cinque gol subiti costano il posto a Pasquale Marino Preziosi lo esonera e richiama Malesani. Giornata numero 31, vigilia di Pasqua tutte le gare in calendario sabato 7 aprile Milan e Juve sono separate da due punti giocano a orari diversi alle 15 i rossoneri sfidono la Fiorentina in casa con Cassano che torna a disposizione alle 18.30 i bianconeri se la vedranno con il Palermo Al Barbera L'uovo di Pasqua regala una sorpresa amara alla squadra di Allegri stanca nelle gambe e svuotata nella testa la Fiorentina colpisce all'alba e al tramonto della ripresa ribaltando il risultato e forse il pronostico tricolore e l'ex bianconero Amauri a condannare i rossoneri a un minuto dalla fine la Juventus ha un motivo in più per vincere i tre punti significano sorpasso parte il traversone di Pirlo attenzione il pallone in rete ha segnato la Juventus è stato Bonucci 2-0 Bonucci e Quagliarella nel secondo tempo la Juve mette la freccia e distanzia il Milan la Lazio consolida il suo terzo posto battendo per 3-1 il Napoli dura sconfitta per gli uomini di Mazzarri che a sette giornate dalla fine vedono sfumare il traguardo Champions anche perché l'udinese è sempre lì trascinata stavolta dal centrocampista Asamoah il ganese realizza un gol per tempo e in entrambi i casi nei minuti di recupero io molto contento ringrazio Dio anche mia moglie e famiglia io sono contento per questa doppietta l'Inter fa 2-2 contro il Cagliari che gioca sul neutro di Trieste per l'indisponibilità del Sant'Elia il Lecce travolge la Roma e continua a sperare nella salvezza il romanista Cosmi festeggia la vittoria promettendo in caso di salvezza di cantare con Giuliano sul palco dei Negramaro io mi propongo il problema sarà di Giuliano se avrà il coraggio di accettarmi insomma voglio dire io ci mancherò farei di tutto chi si è di fatto tirato fuori dalla mischia è il Siena che va a prendersi tre punti a Bergamo di Mattia a destro il gol decisivo quando ormai la partita sta per finire il campionato adesso entra nel vivo tra il 10 e l'11 aprile è in programma la 32esima giornata turno infrasettimanale apre il Milan che vince a Verona contro il Chievo basta un gol di Montari nei primi minuti per riprendersi la testa della classifica un siluro che affonda le vellità di un Chievo a tutto ritmo e velocità poi cuore sofferenza grinta umiltà la classe operaia di Allegri vola in testa alla classifica per una notte il primato dura giusto 24 ore perché la Juventus risponde a tono battendolo a Lazio e si riprende la vetta eroe della serata allo stadium è Alessandro Del Piero entra al 72esimo e dieci minuti dopo realizza il gol partita l'esultanza di Del Piero settecentesima partita ufficiale con la maglia della Juventus 187esimo gol in Serie A Juventus 68 Milan 67 nel mezzo succede di tutto l'udinese non approfitta del passo falso della Lazio esce battuta da una pazza Roma che segna i gol decisimi nei minuti finali fa ancora peggio il Napoli sconfitto in casa dall'Atalanta Di Michele regala tre punti pesantissimi al suo Lecce Milito tiene a gala l'Inter contro il Siena Diamanti fa sorridere il Bologna con la rete della vittoria sul Cagliari poi il campionato si ferma buonasera abbiamo vissuto un'ora e mezza drammatica con la speranza che Pier Mario Morosini potesse farcela e invece questo ragazzo che giocava nel Livorno si è arreso dopo mezz'ora della partita contro il Pescara Morosini aveva 25 anni ed è morto a causa di un attacco cardiaco era un ragazzo sfortunato aveva perso già entrambi i genitori da parte di tutta Rai Sport da parte del gruppo di lavoro di novantesimo minuto serie B un abbraccio forte ai familiari lo shock è enorme quando sentite parlare di questo ragazzo da tutti quanti c'è un'animità di commenti e vi assicuro che non sono le solite frasi che si dicono quando moro un ragazzo la trentatresima giornata viene rinviata alle 16.45 il triplice fischio non finisce una partita termina una vita si riparte con la trentaquattresima 21 22 aprile 2012 la Juve allunga schiaccia la Roma sotto quattro ripi Arturo Vidale è il miglior investimento dell'anno in casa bianconera e i gol del cileno in questo campionato salgono naturalmente a quota 6 doppietta per il cileno che spiana la strada per le successive reti di Pirlo e Marchisio il Milan pareggia faticosamente con il Bologna e scivola a meno 3 di Ibrahimović il gol del pareggio al novantesimo dopo il pareggio ha avuto addirittura più occasioni che in tutta la partita il Milan ma abbiamo iniziato discretamente bene abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli una clamorosa con Ibra dopo abbiamo commesso questo errore abbiamo preso gole lì ci siamo un po' disuniti secondo te abbiamo fatto meglio in dieci abbiamo cercato anche la vittoria e non ci siamo riusciti Lazio-Udinese non pungono i biancocelesti vedono sfumare la vittoria nel recupero è sul tanza spettacolare di Cosmi che ha rigenerato una squadra che sembrava destinata alla retrocessione in Napoli intanto consolida il quinto posto l'Inter pareggia a Firenze contro i Viola che sono ancora in pericolo bene Catania e Parma con quello al Cagliari sono dodici i gol in campionato del numero dieci Parmenze un record personale che vale la quasi salvezza dei Ducali benissimo il Siena 4-1 a Marassi contro i rosso-blu di Malesani malissimo il Genoa non tanto per la prestazione quanto per quel che va in scena al nono del secondo tempo nuvole nere a Genova nessuno alla vigilia della stagione avrebbe mai pensato che i rosso-blu potessero rischiare la retrocessione ambiente carico i tifosi non riescono ad accettare la nuova realtà la vigilia dello scontro diretto con il Siena è tesa e nervosa il Genoa cerca la vittoria addirittura da 11 giornate quart'ultimo in classifica con la peggiore difesa del campionato tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in campo il Siena è una furia il primo tempo si chiude sul 3-0 per i bianconeri poi dopo il quarto gol nei primi minuti del secondo tempo va in scena la follia il Genoa sta perdendo per 4-0 contro il Siena e gli Ultral lanciano un pedardo in campo poi decidono di portarsi verso quella parte della tribuna che dà sul tunnel che portano gli spogliatori la partita viene sospesa gridano si agitano incominciano a dettar leggi con quella violenza purtroppo ben conosciuta dal calcio italiano chiedono e vengono addirittura accontentati di ritirare le maglie perché secondo loro quei calciatori sono indegni di indossarle sono in parte accontentati molti le riconsegnano nelle mani del capitano Rossi altri come Mesto non lo fanno tra sconforto rabbia e pianto forze dell'ordine in campo ultra volto scoperto sul tetto del tunnel scene davvero surreale mentre Sculli l'attaccante del Genoa cerca il dialogo nel tentativo di far riprendere la partita alla fine ci riesce si riconsegnano le maglie Frey il portiere del Genoa è indignato il presidente abete della Federcalcio quella gente dice va allontanata dagli stadi tutto ciò è inaccettabile il calcio imprigionato ma fino a quando dal lato sportivo una brutta pagina per il Genoa che esonera Malesani e lo sostituisce con De Canio per evitare un rimpallo di nuove polemiche De Canio che nel pomeriggio ha già diretto il suo primo allenamento rigorosamente a porte chiuse non sarà presentato ed è probabile che fino a fine stagione l'unico autorizzato a parlare sarà il presidente preziosi e c'è sempre quella questa sensazione di prevaricazione di alcuni delinquenti nessuno ha consigliato di togliersi le magliette assolutamente questo è un fatto che sia ben chiaro se questa magliette fosse stato così il segno del proseguimento e non un segno dell'umiliazione avremmo pure potuto farlo ma quando è diventato invece un segno di resa di umiliazione abbiamo ripreso a giocare per fortuna fine campionato evidentemente una riflessione ci vorrà perché io poi non sto da nessuna parte a rispetto dei Santi se non sono gradito su una piazza mi sembra che sia giusto che uno faccia un passo indietro se invece ci sono i presupposti per continuare vedremo per il campionato e per tutto il calcio italiano è una delle pagine più vergognose della sua storia lei ha parlato di vergogna per i fatti di Genova sì e forse perché non ho trovato un termine peggiore non ho trovato un termine peggiore perché ieri abbiamo arricchito il nostro album già pieno di foto negative ieri abbiamo messo un'altra per cui ho detto e suggerito e suggerirò che agli attori di ieri si facciano una bella foto la mettono nella stanza e quando subiranno un minimo torto un minimo torto arbitrale o altre cose si rendano conto del torto che hanno fatto al calcio italiano e allo sport italiano al di là della cultura di questi soggetti che di sconfitte non ne vogliono sentire parlare perché pretendono ovviamente sempre le vittorie non sanno che anche nella sconfitta si trasferiscono dei valori c'è stata la resa data dalla consegna delle maglie che è il fatto più triste e più grave della giornata di ieri il clima di ricatto in cui parte del calcio italiano vive da tempo non è solo a Genova e non è solo per quei fumogeni in campo il problema è che questi ultrasi sentono padroni padroni della maglia che invece non appartiene loro fossi io la maglia non la darei mai l'ho trovato un gesto che non va ripetuto un gesto di resa che non va offerto per fortuna riparte il campionato con lo sprint finale tra martedì 24 e mercoledì 25 si recupera la 33esima giornata negli anticipi del martedì l'Atalanta batte il Chievo e a Trieste il Cagliari supera il Catania per 3 a 0 il clou è il giorno dopo Juve e Milan giocano in contemporanea alle 18 prima ci sono le vittorie di Fiorentina Napoli e Parma in trasferta vince anche l'Inter che batte l'Udinese al Friuli e stravolge la corsa per il terzo posto ore 18 a Cesena gioca la Juve il Milan ospita il Genoa Conte non tocca il suo 3-5-2 in attacco spazio per il tandem Vucinic Matri ma è l'outsider Borriello a regalare al popolo bianconero i tre punti mancano poco più di 10 minuti alla fine lui è in campo da 5 il Milan risponde all'86 San Siro esplode quando Boateng c'entra il bersaglio Juventus 74 Milan 71 Aprile ancora una giornata in calendario è la numero 35 non cambia niente in testa Juve e Milan vincono largo in trasferta le distanze rimangono le stesse ma c'è un turno in meno da giocare Conte non si sbilancia vuole tenere alta la tensione vietato mollare a me è piaciuto molto l'atteggiamento l'approccio alla partita da squadra che sapeva di giocarsi tantissimo perché per noi c'era un'unica strada vincere il fatto di aver fatto gol subito sicuramente ci ha reso la vita molto più facile intanto è bagarre al terzo posto con le quattro squadre a 55 punti Udinese Lazio Napoli e l'Inter che Stramaccioni sta riportando in alto il ragazzo non perde la squadra ha ottenuto qualche risultato quando l'ha presa l'Inter era molto sotto ed era molto distante adesso è nel mucchio selvaggio come abbiamo intitolato Maurizio Rosa però se andiamo a vedere i coefficienti i vari coefficienti e il calendario in effetti l'Inter dovrebbe compiere una vera impresa per arrivare al terzo posto in coda già retrocesso il Ceseno dopo la sconfitta con la Juventus è un passo dalla B anche il Novara e lotta serrata tra Lecce e Genoa con la Fiorentina virtualmente salva maggio è il mese dei responsi a tre giornate dalla fine la Juve ha tre punti sul Milan ed è in vantaggio con gli scontri diretti un eventuale arrivo a pari punti vedrebbe prevalere i bianconeri ultimo turno infrasettimanale della stagione giornata numero 36 in uno degli anticipi il Napoli batte il Palermo e rafforza il suo terzo posto gli risponde subito l'Udinese con Fabrini match winner contro il Cesena brutta batosta per l'Inter piegata per 3-1 dal Parma di Giovinco Giovinco in area ancora Giovinco Giovinco il raddoppio del Parma due gol in due minuti Sebastiano Giovinco e sono 14 per lui in questo stagione la Lazio pareggia e si allontana dalla zona Champions il Siena invece festeggia l'aritmetica salvezza il Genoa vince e respira in vetta cade l'incredibile il campionato è così pazzo e imprevedibile capaci di sorprendere continuamente a pochi minuti dalla fine Giovinco e Milan sono in vantaggio poi a Torino Gigi Buffon la combina grossa e regala il pareggio a Lecce errore colossale di Buffon e Bertolacci segna il suo terzo gol in questo campionato manca una manciata di minuti alla fine il popolo juventino trema i rossoneri portano a casa la vittoria adesso sono a un punto l'errore di Buffon ha castigato una squadra che sembrava avere la partita in pugno tutto facile appariva per la capolista perché aveva segnato in apertura aveva giocato in superità numerica dal nono della ripresa e l'avversario non riusciva a rendersi incisivo e invece il calcio ha voluto ricordare una volta di più che quando non si chiudono le partite non concretizzando le tante occasioni si può venire castigati la corsa a scudetto è questa alla penultima curva tutto ancora in discussione la trentasettesima giornata è tutta da seguire il popolo del pallone si chiede come reagirà la Juventus impegnata a Trieste contro il Cagliari per il Milan c'è il derby partita da tripla a seguire Udinese Genoa Bologna Napoli e Atalanta Lazio per la zona Champions in coda c'è Lecce-Fiorentina chiude Novara-Cesena partita tra le due retrocessi in anticipo tutto il calcio minuto per minuto gentili ascoltatori da Filippo Corsini più cordiale buon pomeriggio penultimo atto per il massimo campionato di calcio che a soli 180 minuti dal termine deve ancora mettere i suoi verdetti più importanti nei due anticipi di ieri due a due tra Roma e Catania nell'anticipo delle 12.30 invece il Parma ha vinto 2-0 in casa del Siena dal segnalare la vittoria della Fiorentina 1-0 a Lecce che rende ormai quasi impossibile la salvezza dei Salentini Cosmi avrebbe voluto giocare in contemporanea con il Genoa e anche per dare un giorno in più ai suoi per recuperare le forze non sono più sorpreso da quello che succede nel nostro calcio siamo dentro un frullatore veramente che credo che giustifica purtroppo devo dire anche una cosa che io ho sempre non contestato però ho messo in evidenza anche quelli che sono i compensi economici voglio dire che qui veramente rischiano di farti morire in campo abbiamo dunque i finali di tutti i primi tempi Bologna-Napoli Giulio del Fino 1-0 a Foro del Bologna gol di Diamanti nel primo tempo Bergamo e qui a Bergamo alla fine del primo tempo Atalanta-0 Lazio-1 Udine Al Friore-Udinese-1 Genoa-0 Palermo 3-2 per il Chievo al Renzo Barbera Novara il Novara in vantaggio sul Cesena per 1-0 il gol messo a segno da Rigoni al 27esimo sul calcio di rigore studio alle 16 e 4 minuti torniamo in diretta per seguire il secondo tempo delle partite della 37esima giornata a Bologna ha riconquistato palla la squadra di casa con Rubin in servizio e mezzo per Di Vaio la conclusione gol raddoppio del Bologna 2-0 con Rubin al 18esimo minuto del secondo tempo Bologna-2 Napoli-0 Bergamo e qui a Bergamo 18 minuti e 30 per Al Alassio è arrivato il raddoppio di Flora Flores per l'Udinese Udinese-2 Genoa-0 attenzione Geder è entrato in area il tocco con la mano di un difensore l'arbitro ben appostato ha concesso il tiro agli 11 metri ancora Rigoni così come nel primo tempo contro Antonioni il tiro il gol il 2-0 quarto gol del Chievo autore Pellissier Palermo 2 Chievo 4 26esimo Bologna-Napoli a Bologna dunque 2-0 a favore della squadra di casa il raddoppio di Rubin che era entrato in campo all'inizio del secondo tempo terzo gol del Palermo dunque accorce la distanza con Miccoli Novara realizza il terzo gol ancora Rigoni e praticamente Rigoni ha segnato una tripletta in questa giornata pareggio del Palermo con Silvestre Palermo 4 Chievo 4 Ciana e la Lazio raddoppia strepitoso gol dell'Albanese è finita al Friuli Udinese batte Genoa 2-0 a te la linea è finita al Renzo Barbera Palermo 4 Chievo 4 a te finale anche da Bergamo Atalanta 0 Lazio 2 Bologna finisce la partita Bologna batte Napoli 2-0 il Napoli è quasi fuori dalla Champions il terzo posto se lo giocheranno Udinese e Lazio questa sera Cagliari Juventus e Inter Milan Buonasera dallo stadio Nereo Rocco di Trieste sarà scudetto questa sera si dovrà attendere l'ultima di campionato il tricolore prenderà la via di Torino o quella di Milano 80.000 spettatori sugli spalti per il derby di Milano una madonnina d'oro in campo nero-azzurro con la scritta Tite Dominet Milan in curva nord alla nostra sinistra dalla parte opposta i tifosi del Milan hanno messo in mostro la coreografia con un diavolo che scruta con un binocolo gli avversari e sotto c'è scritto vedervi a maggio è tornato un miraggio squadre che sono già sul terreno di gioco siamo i preliminari e torniamo a Trieste Bonucci avanza ancora effettua un lancio in profondità pallone in aria Avucinici il tiro la rete la Juventus è in vantaggio esattamente al quinto minuto di gioco la Juventus sblocca la partita la prima azione offensiva Milito l'Inter è in vantaggio Diego Milito al quattordicesimo del primo tempo sul calcio di punizione di Schneider l'assistenza con un colpo di testa alla sinistra di Walter Adriano e Samuel Milito da due passi ha spedito imparabilmente alle spalle di Cristian Abbiati Ibrahimovic contro Giulio Cesar la rincorsa il tiro rete il pareggio del Milan esattamente al quarantaquattresimo del primo tempo cambia il parziale all'ammeazza Inter 1 Milan 1 attenzione Ibrahimovic nel rigore Ibrahimovic Scavino rete Zlatan Ibrahimovic il raddoppio del Milan dopo 34 secondi di gioco nella ripresa tutto è pronto per l'effettuazione di questo tentativo dagli 11 metri parte Milito il tiro rete ha pareggiato l'Inter ha pareggiato Diego Milito il controllo di petto di Caceres poi il lancio in aere di rigore e la rete la rete delle 2 a 0 della Juventus si grata proprio da Borriello entrato qualche istante fa con un tocco che ha spiazzato nettamente il portiere del Cagliari sta per partire la rincorsa del numero 22 il tiro rete l'Inter è in vantaggio al 34esimo Maicon 4 a 2 per l'Inter gol incredibile di Douglas Maicon dalla lunga distanza un tracciante in diagonale da destra sotto l'incrocio dei pali la Juventus è campione d'Italia questa data il 6 maggio del 2012 verrà ricordata a lungo dai tifosi bianconeri dopo 6 interminabili anni Antonio Conte adesso può liberare tutta la sua gioia la Juventus è tornata a vincere lo scudetto un successo non preventivato all'inizio ma meritato e legittimato da un campionato eccezionale la Juve gioca il calcio migliore di tutto il campionato attacca la partita la comanda la conduce porta a segno quasi tutti i suoi uomini ha subito solo 20 gol nessuno in campionato la sconfitta Pirlo ha il cervello Arturo Vidale l'incursore efficace Marchisio domina il centrocampio e segna gol pesanti Buffon è tornato ai suoi livelli stratosferici di rendimento in attacco Lodi Ammatri e Vucinic un artista del pallone era tempo anni che non ricordavo un grande entusiasmo attorno a questa squadra il merito è tutto suo il merito è di tutti quanti noi iniziando dal presidente finendo alle persone che ci curano il campo tutti quanti siamo resi artefici di una cavalcata veramente che ha qualcosa di fantastico di straordinario abbiamo secondo me avevamo un sogno un sogno che sembrava lontanissimo anni luce inizio anno però con con grandissima abnegazione con grandissima voglia disponibilità da parte dei ragazzi io dico che abbiamo fatto veramente qualcosa di super di straordinario di fantastico siamo in finale Coppa Italia quindi io penso che bisogna togliersi il cappello davanti a questi numeri con Giuliano Curti andiamo a sentire le voci di questa festa esplosa dopo tanti anni di gioia repressa negli anni magri sicuramente del dopo calciopoli contributo la partita non era ancora finita e già i tifosi si erano riversati nelle strade nel centro chiuso a traffico tutti a piedi per gridare siamo noi i campioni dell'Italia siamo noi da quanto tempo aspettavate questo momento? da quando ci hanno rubato gli ultimi due che ce li hanno tolti però dovete dire grazie all'Inter molte grazie Inter forza Juve grazie all'Inter fino a un certo punto sono 30 sempre forza Juve volevano vincere volevano vincere ma l'anno manca solo l'atto finale l'ultima giornata in programma domenica 13 maggio 2012 c'è da decidere chi andrà in Champions e chi in Europa League in code il Lecce ha pochissime probabilità di rimanere in A ma ci prova lo stesso intanto la Fiorentina ha licenziato Deglio Rossi dopo l'aggressione agli Aic per gli ultimi 90 minuti c'è Vincenzo Guerini l'Udinese vince a Catania e chiude il campionato al terzo posto porte aperte ai preliminari di Champions per la prossima stagione chi avrebbe mai scommesso in questo risultato che tra l'altro era più complesso dell'anno scorso bisognava arrivare terzo sì noi ricordiamo che tutti ci dicevano che per una squadra come l'Udinese avere i preliminari di Champions come abbiamo avuto all'inizio di questa stagione poteva essere pericoloso perché si partiva prima invece la squadra ha saputo partire forte in campionato ha conquistato tantissimi punti è sempre stata nell'alta classifica e adesso festeggiamo qualcosa che è ancora più grande rispetto allo scorso anno il Lecce perde e saluta la Serie A Lazio, Napoli e Inter ottengono il passe per l'Europa League a Stramaccioni è riuscito un mezzo miracolo per noi comunque per a livello anche societario a livello di immagine è importante stare in Europa in questo momento ci siamo entrati dalla porta più piccola adesso giriamo la Boa e costruiamo una grande Inter allo Juventus Stadium intanto si fa la festa alla fine della partita con l'Atalanta c'è la consueta cerimonia di consegna della Coppa del Campionato ma a Torino c'è un motivo in più che rende Juve-Atalanta una gara speciale 13 maggio 2012 Juventus-Atalanta minuto 57 sostituzione per la Juve è un momento storico questo per la Juventus per la società per il club e per un giocatore assolutamente intramontabile sta uscendo dalla terreno di gioco Alessandro Del Piero il capitano bianconero in segno di ringraziamento e la standing ovation è tutta per lui è l'ultima partita a Torino l'ultimo istante sul manto verde dello Juventus Stadium di Torino del capitano del grandissimo Alessandro Del Piero la partita si ferma compagni e avversari gli rendono onore un'emozione unica sinceramente vedendolo sin da bambino arrivare oggi alla sua partita che dovrebbe essere l'ultima qui stava per scappare anche la lacrima perché è un grande campione che se lascerà questa squadra lascerà un segno enorme che nessuno penso riuscirà mai a colmare perché ha scritto veramente lui le pagine più importanti di questa squadra domenica sarà proprio finita oggi è stata una bellissima ultima di campionato non poteva essere meglio di così per me un omaggio che solo ai grandi viene concesso il legame che si è creato con questa gente va di là chiaramente del momento di oggi perché è qualcosa che nasce 19 anni fa e poi nel corso del tempo si è consolidato attraverso delle tappe incredibilmente uniche nel bene e nel male e quindi riconoscono quello che a me è sempre piaciuto dare cioè passione innanzitutto voglio di vincere vittoria e tutto il resto la Juventus la squadra dei suoi sogni il poster di Platinini nella sua camera l'esordio il 12 settembre 1993 in un anonimo Foggia Juventus ma già la domenica dopo il primo gol in Serie A contro la Reggiana la cosa carina comunque è che subito dopo il gol sono stato battezzato in diretta diciamo così perché tutti i miei compagni sono venuti vicini faceva molto caldo quindi si usava quelle buste di plastica con dentro dell'acqua e ne aprivo una me la schiacciarono in testa a modo di battesimo del gol ecco diciamo così poi è una hit parade di successi assoluti la prudezza no look alla Fiorentina nell'anno del primo scudetto quando sei bambino e ti addormenti pensando a come sarà la partita domani ti l'aspicio quello di magari segno a tre minuti della fine è un gol fantastico vittorioso e quello è accaduto quindi brevetta un marchio di fabbrica e lo protegge con il copyright per i gol alla Del Piero è venuto spontaneo non è stato qualcosa di ricercato è un tiro che a me comunque piace in determinate situazioni mi è venuto da fare poi il sigillo regale sulla Coppa Intercontinentale ma non è finita il tacco al Borussia e la standing ovation al Bernabeu in una magica notte di Champions Alessandro Del Piero c'è sempre nei momenti decisivi vive in prima persona il bello e il brutto del calcio e della vita il ginocchio che si spezza il papà che muore la rinascita e il gol al Bari l'europeo scippato dai francesi e il mondiale di Berlino Del Piero 2-0 li abbiamo adichiniti gli scudetti vinti sul campo e la scolorina di Calciopoli la Serie B con la Juve da capitano e la nuova vita in bianconero orgoglioso di far parte di una società gloriosa e di averne scritto la storia 188 reti in Serie A 289 totali con la maglia della Juventus 407 presenze nel campionato più di 700 in totale nelle varie competizioni sono numeri che certificano la capacità di un campione di rendersi praticamente immortale nel cuore dei suoi tifosi Alessandro Del Piero il capitano la bandiera gli dei che l'8 novembre 1998 lo scambiarono per il Titanic e lo spinsero verso l'iceberg del suo ginocchio sinistro l'hanno poi condotto al di là di ogni record bianconero Daniele ha detto che ci faceva un sorpresore e ci va a fare la sorpresa glielo paghiamo noi il contratto a Del Piero glielo paghi tu il contratto a Del Piero molto volentieri per Del Piero questo è altro molto volentieri un'altra esaltante stagione è finita un'altra pagina di calcio è stata scritta celebrando il trionfo di una squadra la Juventus praticamente perfetta a tratti devastante con il suo condottiero Antonio Conte che festeggia lo scudetto senza perdere neanche una partita la rivincita sportiva di un popolo post scandalo calciopoli e dopo l'inferno della B un campionato che ci ha narrato di squadre e campioni di prodezze e battaglie calcistiche di gole primati di ritorni e di addi come quello di Francesco Antonioli che a 42 anni e 235 giorni decide di chiudere la sua carriera di portiere secondo calciatore più anziano dietro al solo Marco Ballotta e davanti al mito Dino Zoff o di Rino Ringhio Gattuso nell'ultima stagione della sua lunga e prestigiosa carriera il suo addio al Milan insieme a tanti altri big che hanno fatto la storia del club rossonero Pippo Inzaghi Gianluca Zambrotta Alessandro Nesta commuove San Siro in una giornata indimenticabile per il calcio italiano un altro pezzo di storie se n'è andato ma è anche il campionato di Raffaele Rubino che con il gol realizzato il 26 novembre 2011 ha segnato in tutti i tornei professionistici dalla C2 alla Serie A sempre e solo con la maglia del Novara storie e personaggi che hanno colorato e scandito le giornate dei tifosi italiani ed è per tutto questo che campionato io ti amo grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri